Insomma, poi andiamo a come va. Eccoci, eccoci. Dicevo, abbiamo la stessa pettinability noi, effettivamente abbiamo qualcosa in comune. Io vengo a Brighton dal tuo stesso parrocchiere sempre. Infatti, allora. Ma dove sei adesso? Sei sempre indiano? Sono sempre indiano e sono a Mumbai per il mio ultimo giorno. Ok. E poi di lì dove ti indirizzi? Ok. Attorno a Goa, dove ero la settimana scorsa, più per svago e un po' anche per lavoro, diciamo. Goa appunto è la parte, la costa dove vanno moltissimi occidentali, la parte più bagnabile, diciamo, dell'India. E c'è un bel fermento anche culturale, musicale. Alessandro, dimmi e dia alle persone che poi guardano questo video che mestiere fai? Io faccio l'artista di strada. Ok. E quando hai deciso di fare l'artista di strada? Allora, mi sono ritrovato a farlo per gioco, come spesso accade anche ad altri colleghi. E poi è stata proprio una scelta cosciente. Nel settembre 2014 ho deciso che avrei fatto quello. E da lì ho fatto, diciamo, un piano di preproduzione per iniziare a partire. Poi marzo 2015, quindi festeggio adesso i cinque anni di attività, marzo 2015 ho lasciato quel poco che avevo. In realtà ho lasciato l'Italia e ho iniziato a viaggiare a fare come unico mestiere l'artista di strada. Ma tu hai in un qualche modo studiato per fare l'artista di strada sempre che esista una scuola? O hai fatto un percorso diverso? Che percorso hai fatto? Allora, la scuola, come molti si pavoneggiano, quando era un po' di moda scrivere su Facebook che si aveva studiato all'Università della Strada, quella ce l'ho. Però quello è un master che ho fatto dopo. Ok. Quindi di pratica, di strada. Però sì, io ho studiato arti dello spettacolo perché mi sono diplomato come attore alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Ok. Nel 2009. Diciamo che il mio percorso artistico mi ha sempre portato verso il mostrarmi, ecco. Ho fatto prima un percorso più, appunto, una volta finita l'accademia, anche durante l'accademia facevo un percorso, diciamo, standard da giovane attore, quindi tantissimi provini, tantissimi treni, tantissime porte in faccia, alcune porte che si aprivano anche molto interessanti. Ho lavorato in teatro, ho fatto cortometraggi, mediometraggi, documentari, piccoli doppiaggi. Sono arrivato anche ad avere una parte, per quanto piccola, in una serie tv su Mediaset. Ah, ok. Che serie era? Una roba figa o una merda? Era Squadra Antimafia. Ah, wow, ok. Ok. No, insomma, mi sembra che non seguo le serie italiane, però mi sembra che sia, insomma, da tanti anni. Eh, andava bene, andava bene. Però diciamo che, ecco, quello non era proprio il mio mondo. Non ti prendeva. E a quel punto cosa hai detto? Cioè, un giorno ti sei alzato e hai detto basta, adesso faccio artista e salto. Perché non è proprio la scelta più immediata, no, che a uno verrebbe. Per me è stata molto immediata, però è stata mediata prima da un buon paio d'anni di galleggiare. Io faccio parte di quella generazione, sono nato nell'87, faccio parte di quella generazione che tra i 20 e i 30 galleggia, fai il lavoretto qui, il lavoretto lì, cerchi di seguire il tuo sogno, di formarti. Quindi scrivevo canzoni, avevo formato la band, appunto, Gaps Orchestra, che è anche il nome che porto anche quando sono da solo. Scrivevamo canzoni, suonicchiavamo e lì, con il primo terzetto della Gaps Orchestra, abbiamo iniziato a viaggiare per strada. Molto semplicemente avevamo formato la band. Nel nostro comune, dove ci siamo formati, che è la città dove sono cresciuto, che è Udine, in quello specifico momento c'era stata un'ordinanza per cui i locali non facevano suonare dopo le 10 di sera, quindi nessuno voleva prendere una band a suonare. Noi avevamo proprio voglia, tanta voglia di suonare, non so a chi sia venuta l'idea, era il 2012, abbiamo detto, vabbè, prendiamo, suoniamo per strada. Quindi abbiamo mezzo rubato, però insomma, ci siamo impossessati di una multipla del padre del nostro chitarrista e siamo partiti alla volta della Liguria, Toscana, Campania. Per caso. E sei partito così. Scusa lo starnuto che spero che non sia trasmissibile il coronavirus da me a te e via. Mi hai dubito, mi hai dubito. Oppure no, perché immagino l'altro giorno ero a Covent Garden e c'era un performer che faceva, molto bravo peraltro, si liberava dalle camicie di forza un po' un Udini simpatico, mettiamola così, un emolo di Udini simpatico, e però la mia dolce metà mi diceva, cacchio, qua, questa zona qua, dove si sta esibendo, oltre ai permessi, costa anche, cioè è costoso avere quel pezzo lì di strada per performare. Come funziona? Cioè, quando sei partito avevi un'idea dei permessi della burocrazia oppure zero? Non avevamo nessuna idea. A monte non avevamo nemmeno idea dell'attrezzatura che ci serviva per suonare per strada. Sembra, in realtà è ieri il 2012, però per quanto riguarda il mio lavoro, quindi quello del basker, dell'artista di strada, sono passate ere geologiche. Nel senso che adesso il litio è in qualsiasi, per farla semplice, in qualsiasi amplificatore, cioè tantissimi amplificatori a batteria esistono che si autoalimentano, esistono dozzine. Quando abbiamo iniziato noi, era molto complicato, non solo comprarlo, la cosa più complicata era capire che cosa dovevamo comprare, per poter avere elettricità su una strada, senza ovviamente una presa di corrente. Quindi abbiamo, sai, cerchi su internet, come fare l'artista di strada, non c'era niente, zero, il deserto. E quindi abbiamo avuto la magica idea di comprare un generatore a benzina e facevamo un casino. Un cresconto era da un punto all'altro. Completamente contro ogni regola, contro ogni norma ambientale. Insomma, noi arrivavamo, questo faceva casino, lo mettevamo il più lontano possibile e non alzavamo il volume a palla. Ok. Una volta fuso il primo mixer abbiamo capito che non era proprio la cosa migliore da fare e quindi siamo passati alle batterie da tir. Quindi 30 kg di batteria. Perché quella tiene, praticamente fa l'effetto di un generatore e ti dà corrente. Assolutamente. Però era anche, ho scoperto annissimi dopo aver portato per anni quel peso su un carrellino, che in realtà era completamente inutile, ne bastava una da moto. Quindi... Ah, ok. Ok. Ma adesso è cambiato più perché invece non hai più bisogno di questo, ma un amplificatore amplifica bene, non ha bisogno di tutta sta corrente, in sostanza? Adesso diciamo che il litio, praticamente ogni settimana le batterie a litio migliorano e quindi noi andiamo di pari passo con le batterie a litio. Perché usiamo appunto, io ho una batteria a litio un po' grossa, che però pesa, capito, un chilo e mezzo, che mi alimenta qualsiasi tipo di apparecchio io voglia. Quindi ho una gamma di scelta, posso scegliere il suono che più mi piace con l'amplificatore e poi dargli la batteria. Dimmi che cosa suoni tu. Per strada hai delle preferenze o sei eclettico? No, sono anche quasi troppo statico, se vogliamo, sul repertorio e sullo spettacolo. Allora, il mio spettacolo che si è formato insieme con i miei viaggi degli ultimi cinque anni si chiama Italian Music Around the World, quindi il giro del mondo con la musica italiana. Quindi io canto solo canzoni italiane, tendenzialmente molto famose all'estero, il tutto condito tra una canzone e l'altra con parti parlate in cui racconto o la storia della canzone oppure un pezzo di storia italiana. Diciamo che vado dal romantico al politico, al sociale, al divertimento. Ok. Ma adesso sei, giri da solo, perché all'inizio dicevi invece sei partito con la tua band e adesso sei da solo o sei ancora in band? Allora, la band esiste, anche se sono cambiati quasi tutti i membri, è un po' sparsa, uno è in Sardegna e due sono a Bruxelles e io sono una trottola. Quindi facciamo, diciamo, due o tre festival all'anno insieme, dove suoniamo insieme. Altrimenti io per la maggior parte del mio tempo, normale, giro da solo, anche perché nel momento, anche perché insomma questa dell'artista di strada è una scelta molto personale e a me piaceva proprio l'idea di poter essere da solo artefice del mio destino, poter decidere quando, dove, come andare, come suonare e anche ovviamente, insomma, per un fattore monetario, specialmente quando si inizia non hai idea se neanche riuscirai a sostentarti con questo mestiere, quindi di vedere il cappello. E questo, Alessandro, penso sia il problema principale. Cioè, fino a che non sono arrivato a Brighton, la mia idea dell'artista di strada era, ecco, uno, cioè, che è un barbone che suona, ecco, questa era la mia idea. Almeno sa suonare. Almeno sa suonare, ecco. Invece quando sono arrivato qua, che ho visto un sacco di gente, peraltro bravissima, per formare varie cose, insomma, dalla musica, recitazione, acrobazia, eccetera, invece è un mestiere, no? E quindi dici, ah, caspita, no, no, aspetta, dietro ci deve essere una sostenibilità economica, perché li vedo sempre e sono sempre gli stessi che girano. E quindi mi ha colpito questo, però spiegaci un pochino come funziona. Certo, ma tu sei proprio nella patria, insomma, tutto il Regno Unito e l'Irlanda è un posto in cui il basker, l'artista di strada, è un mestiere e tutti lo sanno, è socialmente riconosciuto. In Italia si stanno evolvendo molto, in realtà, le cose, è sempre più riconosciuto. Io, molto spesso, la gente mi lascia una moneta e mi dice buon lavoro, e io in quello, quando mi dici buon lavoro, io sto capendo che tu mi vuoi far capire, io lo so che tu stai lavorando. Che sai, certo. Io devo dire che è cambiato molto negli ultimi anni e anche probabilmente grazie alla spinta dei social. Trovo che specialmente nell'ultimo anno, anno e mezzo, si è proprio impazzando la moda del basking, è diventato moda. E l'aspetto economico funziona esattamente come lo vede il pubblico. Noi, insomma, nessun comune ci paga e non abbiamo nessun'altra forma di sostentamento se non, ovviamente, il nostro cappello. Quindi, cioè, all'offerta della gente. Diciamo che si cerca di fare uno spettacolo il più, ovviamente dicendo dalle giornate, il più mirabolante possibile. E poi è sempre un grande punto interrogativo. Cioè, tu arrivi e c'hai il giorno in cui suoni davanti a 5, 10, 20 persone e poi magari arriva la bomba e hai 200 persone intorno. Il giorno in cui monti e le persone ti stanno già aspettando, quasi. È molto aleatorio, come dicono in Spagna. Però fai una delle cose per me più difficili in assoluto, che è intrattenere delle persone sconosciute che spesso non ti conoscono. Già, nella maggior parte dei casi non ti conoscono. Se vai in posti, in posti nuovi, non sono lì per te. Quindi, di default, parli a persone diffidenti, ecco, in generale. Magari sono prevenuti e tu devi non solo convincerli a ascoltarti o a guardarti, ma in più devi anche avere, diciamo, un conversion rate e una percentuale di queste, devi anche mettere due lire per sostentarti. Quindi è molto complesso. Non so come sia fattibile. Che cosa stai imparando in questi anni di esperienza? Innanzitutto per coinvolgere le persone. Cos'è che aggancia le persone, secondo te? Guarda, mi sono inventato di tutto. Diciamo appunto, io adesso suono questo piccolo, io lo chiamo un soft one-man band, quindi un'uomo orchestra. Però il classico uomo orchestra, per intenderci, ne so, quello di Mary Poppins che ha la cassa sulla schiena e tutto quello, io non ce l'ho. Ok. Ho varie percussioni ai piedi, suono l'armonica, il casù, che è uno strumentino che fa un suono tipo tromba, canto, suona una chitarra. E poi ho inventato, perché ancora non l'ho visto da nessuno, ho inventato questo piattino, che è un piccolo piatto da batteria, che dipende dalla paletta della chitarra, che io praticamente lancio a terra, attaccato con un filo di ferro, e io lo suono a terra quando ho bisogno di farlo. Che è, diciamo, un po' il mio tocco distintivo. A volte mi incontro gente e mi fa ma tu sei quello, è il gesto che faccio io quando suono. Quindi un po' mi vedi, mi identifica. E questo è molto importante, ovviamente, devi avere qualcosa per far fermare le prime persone, che a volte è la cosa più difficile. E poi dai di sai, quando crei la connessione con le persone, in realtà le cose poi vanno molto sciolte. Poi il mio punto è uno spettacolo molto parlato, molto comunicativo con le persone che mi stanno intorno, e quindi loro sono coinvolte. Per quanto riguarda poi il fatto che, ovviamente, una parte di quel pubblico lo devi fidelizzare a tal punto che in quel momento stesso ti deve comunque lasciare la moneta, la banconota, io non faccio niente di particolare a riguardo. Ci sono colleghi che spingono molto su questo aspetto. Io semplicemente racconto un po', racconto e dico la verità. Il mio è uno spettacolo verità. Perché io racconto dei miei viaggi, del momento stesso in cui sto vivendo in quel momento, rapportati più o meno alle canzoni. E quindi in quel momento ti dico anche, guarda, io sono un artista di strada e questo è il mio lavoro. Se ti è piaciuto quello che faccio, puoi mettere una donazione qua. Se pensi che sia, insomma, di un buon livello, di un livello professionale, io così posso, insomma, continuare ad essere un artista indipendente, andare in giro per il mondo e fare la bella vita. Non è che non vi faccio la bella vita. Per me lo è, perché viaggiare è la mia bella vita. La tua giornata tipo... No, scusa, dammi un dato numerico. Cioè, un artista di strada, se tu fai uno spettacolo, quanto tiri su a performance? E quante performance puoi fare? Non darmi il numero preciso, ma solo per avere un range da dire, ok, tiri su 200 euro al giorno o 2000. o 50? Cioè, che forchetta anche hai tu nella testa? E magari cosa cambia anche se sei in India o se sei in Inghilterra o se sei in Italia? Immagino sia anche diverso, forse. Ovviamente tutti i fattori che tu hai detto cambiano. Cambia il posto, il quando, anche magari stesso posto, stagione diversa, stesso posto, stagione uguale, orario diverso. Questo fa tutto cambio. Io ti posso dire, anche perché sono, come molti tra i colleghi, non ce la capiamo benissimo con la situazione maneggiare il denaro, nel senso che lo prendiamo e molto spesso se ne va. Lo spendete. Quindi io ti posso dire che da anni, facendo questo mestiere, io penso di avere, insomma, delle entrate di una persona che lavora normalmente, non un lavoro clamoroso, perché però può permettersi di fare, insomma, le cose che vuole. e tutto questo ovviamente facendo questo lavoro con una certa costanza e un certo livello di professionalità. Un cappello può andare, dai, pochi euro, ah, insomma, svariate decine di euro anche di più. Però il punto è questo, che a volte, questa è una domanda classica che a volte mi fanno anche gli amici, gli conoscenti. Il punto è che se io ti dico, magari, oggi ho fatto tot, tu ti pensi, tu lo moltiplichi per 30 giorni, ma non è, capisci. Certo, magari un giorno è zero e un giorno è un giorno a mille, insomma, chiaro. Pioggia, pioggia, sbirri, altri colleghi, ci sono una marea di cose che possono, insomma, intromettersi fra te e il successo della giornata, ecco. Scusami, pioggia, ok, mi è chiaro, perché se piove, oddio, magari se tu performi uguale a quel punto la gente lì più intenerita, non so, però... L'ho fatto, ovviamente. Invece Sbirri, però scusami, Sbirri, tu chiedi le varie autorizzazioni, come funziona se tu vuoi... Esci oggi e vuoi performare, come funziona? Monti, eh... Allora, di base ogni comune in tutte le parti del mondo, ogni comune ha le sue regole. Ok. A volte addirittura parliamo di città grandi, tu devi appoggiarti al sottocomune della città grande, per conoscere le regole. Ti faccio un esempio, dato che sono qua, adesso a Mumbai, sono venuto qua due settimane fa, mi sono messo nel... Vedo un po' in giro, guardo questo spot bellissimo davanti al mare, le palme dietro, una bella... Una piazzetta un po' larga che è anche merce rara, è India. E, insomma, mi gaso, dico perfetto, monto tutto, suono, arriva un primo security e mi dice, eh, non puoi... Però non era un poliziotto, mi fa non puoi suonare, dico guarda, dai, tranquillo, dieci minuti, inizio a suonare tre canzoni e... arriva la polizia, mi chiede il permesso e dico, no, no, tu non puoi suonare qua senza un permesso, dove lo prendo, qua, bla, 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 e... E lì mi hanno fermato, ma in generale, parlando adesso del mio mercato più... Quello che frequento di più, che è ovviamente l'Europa, le città cadono così, cioè le legislazioni stanno cambiando molto e spesso cambiano a nostro sfavore, non ci impediscono di... ci impediscono di suonare, ci impediscono di suonare specialmente amplificati, questo è una discriminante molto importante, un artista di strada tendenzialmente quelli... Poi ci sono spettacoli meravigliosi e bravissimi di gente... di gente bravissima che lo fa in acustico, però tendenzialmente uno spettacolo di strada di un certo livello richiede un amplificatore, e molto spesso le legislazioni negli ultimi anni ci stanno penalizzando moltissimo, quindi il rapporto insomma con la polizia arriva nel momento in cui lo fai anche illegale, perché insomma parliamoci chiaro, questo comunque è un mestiere pirata, è nato come un mestiere pirata e ci morirà e li seppelliremo tutti comunque se loro ci proveranno a fermare, però non ce la faranno perché... Però ti dico, qua Brighton sono... cioè quelli con cui ho anche chiacchierato sono tutti super in regola col tesserino, non so che cazzo ci hanno, tutte le robe, i loro slot, bellissimo, io sono per la... per la legislazione e per i permessi, assolutamente, bellissimo, io non chiedo altro di poter avere un permesso e tu mi dici, tu puoi suonare qua, io ci suono e sono tranquillo, ora, dalla manica in poi, in su, è un'isola felice, riguardo a quello, perché è proprio, non esiste in Inghilterra tutto il Regno Unito che ti fermino perché stai suonando, giusto Londra, stretto alcune cose come giustamente citavi tu, cover yard, anche un posto particolare, però se vai semplicemente anche solo a Leicester Square o Trafalgar Square, tu ti metti là, fai la tua coda, segni il tuo nome in una carpetta che c'è scritta là e suoni, aspetti e suoni. Ok, e in Italia invece la situazione com'è? Ecco, in Italia non era la domanda lì. Io intanto vorrei, no no assolutamente, io vorrei sfatare un mito che mi sono autosfatato in realtà anch'io perché da anni pratico questo mestiere prevalentemente all'estero, ovviamente faccio sempre qualche mesetto in Italia e ci suona, ed è un piacere, però in realtà l'Italia è molto ben messa riguardo all'arte di strada. Ora, lasciando perdere i singoli casi che ci sono una marea di città in cui appunto che stanno cadendo come ad esempio problemi a Roma, problemi a Bologna, problemi a Firenze, però l'Italia ha questa cosa che ancora io non ho incontrato in nessun paese dell'essere insomma uno stato con città, cittadine, paesini, tanti, uno presso all'altro, in cui comunque c'è una qualche forma di turismo e molto spesso è di stampo culturale, e molto spesso queste cittadine non essendo ancora probabilmente state toccate dal grande basking di massa, dai grandi spettacoli in continuazione, hanno delle legislazioni che ti consentono di suonare. è chiaro che se tu suoni in una città di capito centomila abitanti non è che dici mi faccio un mese e suono lì tutti i giorni perché al quarto giorno le persone ti hanno visto tutti. Però l'Italia è un paese a cui a volte altri colleghi proprio aspirano, mi dicono ma voi in Italia sì che avete la cultura dell'arte di strada. Va bene, me lo segno. Ma scusa, ma se tu vuoi andare a Milano, in Piazza Duomo dove c'è sempre qualcuno che performa, hai anche lì vai, ti segni in fila, devi chiedere un permesso, devi pagare uno spazio, come funziona? Tendenzialmente parliamo sempre che tutte queste situazioni sono gratuite e Milano nella fattispecie funziona tramite una piattaforma online. Milano ovviamente fu all'avanguardia in questo, ormai sono forse dieci anni che c'è la piattaforma, un po' meno, che ha la piattaforma online in tutti i segni, tra l'altro è fatta bene nel senso che se tu hai preso uno spot che ne so, di Piazza Duomo, Piazza Duomo-Castello, poi per 4-5 giorni non puoi riprenderlo perché comunque deve essere la rotazione e le postazioni buone. Anche perché se no uno occupa sempre le migliori postazioni negli orari migliori e gli altri si incazzano. Esattamente. Quindi Milano per esempio è così e poi ci sono città insomma più selvagge, ad esempio Roma è una città abbastanza selvaggia per quanto riguarda gli artisti di strada. Per quanto ci siano dei permessi. E il rapporto con gli altri artisti di strada com'è? Allora, come in tutti i mestieri ci sono gli stronzi. Ok. Nel nostro essendo un mestiere di strada dove quindi cioè tu non è che puoi appellarti ora non è che siamo al giudice. Esatto, non è che siamo proprio criminali, ok? Però comunque quello che io penso è che cioè noi lavoriamo per strada quindi il nostro campo di lavoro lo condividiamo comunque con mendicanti criminali prostitute venditori ambulanti artisti di strada e noi ne facciamo parte ed è un microclima che io adoro è bellissimo quindi diciamo le questioni vanno risolte molto internamente quindi quando c'è il prepotente di turno si fa forte del fatto che non c'è veramente una legge che possa dirimere le nostre questioni detto questo diciamo che i prepotenti non sono così tanti anzi io da quando ho iniziato a fare questo mestiere specialmente essendo andato in giro veramente tanto e avendo fatto praticamente quasi tutte le capitali europee negli ultimi anni ho conosciuto artisti di strada da tanti posti e quando mi ritrovo con alcuni di loro che in realtà non sono neanche pochi è festa è veramente come se fosse una seconda una seconda famiglia in più a volte ti ritrovi in dei festival di artisti di strada e quindi capito l'amico di copenhagen incontra l'amico spagnolo tramite te e diventiamo tutti e tre amici e proprio sono famiglie allargate cioè noi ci chiamiamo ci diamo consigli consigli nerd che neanche te lo dico anche perché cioè condividete comunque le stesse problematiche quindi siete sulla stessa lunghezza donna fate lo stesso mestiere però io un po' di paura ce l'avrei ecco io non potrei mai fare il tuo mestiere avrei paura della polizia cioè ho paura quando la preside della scuola di mio figlio di sei anni guarda come dire e dico cazzo adesso mi interroga immaginati se arriva la polizia e dice Montemagno no permesso documenti io ho il competitor che arriva con il coltello e dice vai fuori ai coglioni piglio il tuo spazio e dico vabbè scusa vado all'altra parte e non sono le cose peggiori ah quali sono le cose peggiori? no sì nella mia esperienza tu sei lì in mezzo alla strada appunto alla mercè di varie cose che ti succedono intorno spesso le cose peggiori sono persone violente o alterate spesso semi semi vagabondi alcolizzati molto spesso che ci disturbano in maniera a volte anche fisica ok e anche lì non abbiamo un grandissimo supporto molto spesso da parte delle forze dell'ordine anche perché capito tu sei là in quel momento stai magari facendo lo spettacolo c'hai 200 persone intorno c'è la chitarra l'armonica il piattino stai parlando questo ti arriva insomma però insomma si impara anche a gestire queste situazioni tra l'altro mi fai venire in mente che l'altro giorno a Londra non ha come c'era un'altra ragazza che invece suonava molto brava e c'era un tizio totalmente alcolizzato di fronte stava a 20 centimetri e quindi dopo un po' pensavo cioè non andrà anche a fare il culo sto tizio nel senso però sei una ragazza lì da sola che cosa fai quindi come lo gestisci questo se hai un disturbatore o più persone quello che hai visto tu è l'esempio classico proprio quello che ti arriva davanti così io ho avuto la grande scuola ho suonato per vari anni a Bruxelles ok e a Bruxelles non so se ci sei stato davanti al palazzo della borsa adesso c'è un grande vialone pedonale e quello è proprio siamo in pieno centro del centro d'Europa e lì è completamente lasciato al degrado quindi io avevo problemi quotidiani e la mia tecnica adesso è una tecnica da strada quindi tu devi fare io faccio che non ho mai dato un pugno vero in vita mia non ho mai fatto una lista in vita mia io faccio quello che in realtà ne ho visto tante quindi gli vado a muso duro brutto e cattivo perché in strada molto spesso insomma chi fa la voce più grossa è molto il 95% delle volte funziona ah ok e quindi si allontana e va a rompere a qualcun altro si allontana va a rompere a qualcun altro capisci poi ti scusi con la gente dici guardate questo è il mio lavoro è una questione di rispetto non ti nego che a volte specialmente se la disputa è breve attira moltissimo la gente nel senso tutti vogliono vedere una risca quindi si avvicinano molto se rimane breve in realtà poi dopo aiuta anche lo spettacolo ah ok quindi quello che io farei è sempre il disturbatore finto non la cerco e da questo punto di vista nella tua nella tua esperienza che cosa alla fine finisce per funzionare di più o funzionare di meno in uno spettacolo cioè ti faccio un esempio se io organizzo un evento o faccio non so uno speech un monologo dei miei in giro ogni volta finisco e dico ah ok questa parte qua non ha funzionato bene qui ho sbagliato questa interazione col pubblico potevo gestirla diversamente il disturbatore ha funzionato il modo in cui ho ribattuto ho sbagliato su questo ho tutta una mia lista di cose sempre da migliorare e tu che tipo di valutazione fai? cioè hai ormai il tuo spettacolo fisso quindi fai quello e più o meno insomma funziona sempre uguale oppure hai delle variabili rivolte molto a cerchi di cambiare in base ai feedback precedenti come funziona? allora io direi che lo spettacolo a cui sono arrivato adesso è sicuramente una summa di tutti gli errori e le cose buone che ho fatto negli ultimi anni e scusami Ale quanto dura? dai 45 minuti all'ora wow ok quindi è uno spettacolone non è facile fare un'ora di materiale tanta roba insomma ok sì sì ok ne ho anche di più ovviamente suonando all'estero ho questa situazione del repertorio un po' corto in realtà perché insomma mi cervello trovare canzoni italiane famose all'estero che comunque almeno la gente abbia conosciuto e quindi il repertorio mi rimane un po' stretto questo repertorio appunto collegandomi a quello che mi hai chiesto l'ho affinato durante anni in cui ho provato varie canzoni varie varie canzoni e vari monologhetti e più o meno ho capito quello che funzionava più quello che funzionava meno quello che in realtà funziona sempre però non è non riesco sempre a riprodurlo ancora è lo stare veramente nel momento in cui stai parlare possibilmente del viaggio che stai facendo nel posto in cui sei con dei riferimenti ai paesi alle città che hai visto magari in quel paese questo lega molto e fa legare molto la gente poi in realtà io mi ispiro molto anche ai fatti di cronaca tendenzialmente sociale politica perché io comunque nasco come sono ancora un cantautore quindi per me il messaggio sociale è molto importante e quindi a seconda anche delle notizie per farti un esempio quando fu di tutta la situazione caro la racchete migranti salvini tutto quello io all'epoca ero a copenhagen e quindi insomma mi facevo mi facevo megafono per raccontare anche quella cosa le cose che stavano succedendo che magari capito il danese non sa esattamente cosa sta succedendo e quindi io racconto la storia di quello che sta succedendo e do la mia opinione personale pulita ed educata ma mia ecco come come rispetto nei tuoi confronti quando quando sei a performare per strada come come la vivi perché spesso soprattutto nei paesi con giudizio e a nuovero l'Italia ovviamente tra questi paesi quando vedi un artista di strada c'è un giudizio un po' come dire di seconda classe c'è l'artista vero e poi se fosse vero non sarebbe in strada questo è un po' il pregiudizio come lo vivi questo? e peraltro cioè io ho visto non so il documentario di Petit il funambolo meraviglioso artista di strada per una vita performato in qualunque situazione allora i primi anni la vivevo con molto con astio questa situazione perché vedevo quando succedeva non sempre mi ricordo ad esempio una bambina italiana che stava passeggiando per Bruxelles con la sua famiglia stava suonando una collega non io passa davanti gli fa papà ma lei suona per strada perché è povera questo è quello che tanta che tanta gente pensa ti dirò ci sta cioè io come ti ho detto prima ecco adesso non ho più astio nei confronti di questa cosa perché non mi fa più incazzare sinceramente che alcune delle persone mi guardino dall'alto in basso pensino che come dici tu giustamente sia un barbone che magari quando mi chiedono ma stasera dove vai a dormire c'ho l'ostello oppure c'ho la stanza cioè non ho mai dormito sotto un ponte capito se l'ho fatto l'ho scelto ma perché lo volevo fare però però c'è questa cosa nella testa infatti anch'io se tu mi dicessi delle persone che magari vedo in giro poi dico boh dove dormirà quello che ho visto lì a come gara un altro giorno peraltro stavo pensando che ha fatto un ottimo spettacolo cioè io che analizzo mi piace la comunicazione a parte che aveva due tre parti di ingaggio col pubblico molto carine che che replicherò uguale per i miei eventi no nel senso perché poi inevitabilmente la strada ti dà quella no quello sgamo che che non hai in un contesto più tradizionale perché devi devi riuscire a cogliere l'attenzione però ugualmente se ci penso probabilmente anch'io direi bah poverino chissà dove va a dormire non so perché c'è questo questo tipo di pregiudizio sì e ti dirò io come ti ho detto prima questo è un lavoro pirata e quindi che la gente non capisca tutto non sappia tutto per me fa anche parte del gioco in qualche modo comunque mi affascina poi quando capita di parlare anche appena più approfonditamente con le persone mi piace appunto far schiudere questo mondo alle persone che magari non lo conoscono non lo conoscono e far vedere appunto c'è molta normalità ecco in realtà dimmi la tua giornata tipo che poi non sarà mai una giornata tipo però una giornata quasi tipo qual è? arrivi appunto non so in India che fai? allora facciamo che arrivi in Europa perché poi se vuoi dire ti parlo perché è un attimo diverso ok che ne so arrivo a una città in cui sono già stato per esempio Copenaghen si ok so già anzi mettiamo arrivo a Copenaghen la prima volta più interessante da zero sei lì e dici adesso che faccio? intanto arrivo con chitarra sulla spalla e valigione ok arrivo e vado in ostello che magari ho tendenzialmente prenotato prima lascio le mie cose prendo tutta l'attrezzatura e vado a fare un giro a capire dove si suonerà vuol dire che il giorno fatica totale perché la valigia pesa 20-25 kg più la chitarra sulla schiena se ha un pietrino vuol dire andare in giro per la città a capire dove sono gli spot magari incontri un altro artista di strada gli chiedi se hai fortuna quello è gentile ti dice guarda si suona qua qua e qua lì è meglio che non ci suoni perché una volta capito ed entrato nella routine la giornata tipo dipende completamente dalla stagione e da dove sei perché se sono d'inverno d'autunno o anche mezza primavera io posso uscire la mattina specialmente se sono in una capitale europea già iniziare a suonare o non è che esco di casa e vado tranquillamente a suonare la versione più probabile della giornata è che io esco di casa vado sullo spot e aspetto c'è qualcuno sicuramente che sta già suonando e mi aspetto le mie 1, 2, 3, 4 ore ma in un qualche modo gli puoi dire scusa ma quando è che finisci c'è un dialogo da questa magari sono arrivato con l'esempio di prima a Copenaghen sono arrivato nella piazza di Copenaghen ci sono già 4 artisti in fila quindi io suonerò sarò il quinto mi piazzo là aspetto fai due chiacchiere un caffè fai altre due chiacchiere leggi e lì avrai una roba che compili un foglietto che compili qualche cosa o molto spesso la tua presenza fa da garante però non te ne vai cioè non è che sei arrivato ci sono no aspetti là al che suoni 1 ora 2 ore dipende dalla situazione magari mi cambio spot dopo per il pomeriggio vado suonare un'altra parte quindi alla fine del giorno magari ho suonato 2, 3 2, 3 ore però nel mezzo in realtà cioè non è che hai lavorato 2 ore sei stato attivo e sul pezzo per molte più ore e poi insomma la giornata è finita probabilmente torno in ostello lascio le cose in ostello vado a mangiare faccio le 5 di mattina questo è il tuo standard non mi ricordo quando ho fatto un po' di mattina credo fosse il 1900 non so 97 non so una roba così ok chiaro ma nelle mie immense paure e paranoie c'è anche quella di essere derubato e peraltro abbiamo fatto una serie di eventi un po' di tempo fa e volevamo fare un documentario di tutte queste giornate e l'ultimo giorno hanno rubato tutto tutto agli operatori quindi hanno rubato telecamere dischi backup micro di tutto tutto il materiale girato per 5 giorni è andato via perso e a parte insomma che uno dovrebbe sempre secondo me backupare 7 volte ovunque tenerlo nelle mutande però diciamo la sfiga capita ecco cosa succede se ti ciulano la roba o magari sei lì lasci in ostello e poi non te la ritrovi più o come ti muovi tutta la tua sicurezza del materiale che poi se non ce l'hai non puoi lavorare quindi è fondamentale hai fatto la domanda all'ardenza di strada più paranoico di quelli che io conosco non volevo portarti in sfiga nel senso no 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 la mia preoccupazione è quella lì è una domanda è bravo perché è esattamente anche la mia io sono non sono terrorizzato da questa cosa però ci metto sempre un'attenzione tripla rispetto a quella che dovrebbe essere se posso prediligo stanze private tendenzialmente ora negli ultimi mesi in realtà ho viaggiato abbastanza spesso anche con altri colleghi ognuno con il suo spettacolo quindi avevamo praticamente sempre una stanza singola altrimenti sto molto all'occhio nella scelta degli ostelli quindi magari che abbiano che abbiano una sorveglianza sempre che posso lasciare la valigia lì e comunque non è completamente infallibile però è abbastanza buona io uso valigione e catena da bici attaccata al letto un po' punk però quando diciamo è una situazione emergente e quando performi perché tu sei da solo e magari c'hai non lo so c'è qualcosa che puoi lasciare lì o un portatile niente no guarda io ho non è qua ho un borsello così che non posso staccare dalla mia vita dalla cinta e lì ci sono le cose piccole ma importanti passaporto soldi e poi quando io suono a parte l'ampli che sta un pochino dietro di me tutto è davanti a me ok io non ho niente in vista dietro cosa che invece molti colleghi fanno li vedo lasciare gli zaini gli ipad così tranquilli dico ragazzi guardate se siamo in strada chiaro 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 diciamo in strada è tutto molto controllato l'amplificatore chiaramente se uno se lo stacca te ne accorgi subito perché non lo stacca quindi questo mi sembra un ottimo segnale anche io lo utilizzerei qual è la cosa peggiore che ti è mai capitata e qual è la migliore che ti è mai capitata avevo questa curiosità allora ma allora io praticamente da anni vivo questa vita come un viaggio continuo ok e secondo me quando tu vivi un viaggio continuo ci sono ci sono sempre dei punti bassi in cui le cose non ti funzionano non sta andando bene però successivamente a quel punto basso sempre specialmente perché tu lo continui all'infinito sempre da quel punto basso arriva qualcosa che ti riscatta per dieci volte quindi un evento insomma brutto diciamo che che me lo ricordo ancora bene che mi ricordo quanto ero incazzato quel giorno fu questo io estate 2017 arrivo negli Stati Uniti con quasi tutta la mia attrezzatura non proprio tutta mi mancava la batteria per motivi aeroportuali la batteria inverter carica batterie insomma cose difficili da reperire per cinque giorni giro in tutta Manhattan per trovare le cose che mi servono molto molto complicato trovo alcune delle cose finalmente il quinto giorno di New York ho tutto però dato che sapevo che avrei potuto avere problemi a New York amplificatore quant'altro della mia prima volta in America mi stavo cagando sotto che mi mandassero a casa a calci vengo a sapere che a Boston che è a quattro ore di autobus a nord di New York si può suonare io prendo tutte le mie cose e vado a Boston arrivo a Boston ho tutto nella mia valigia pronto per suonare arrivo sullo spot apro la valigia prendo la mia bella batteria tutto perfetto prendo l'inverter che è praticamente il macchinario fondamentale che trasforma il 12 volt la corrente della batteria al 220 o al 120 americano per far funzionare l'ampli ma se tu inverti dato che devi collegarla con due morsetti tipo quelli della macchina se tu inverti polo negativo e polo positivo l'inverter se ne va e io in quel momento preso dalla fuoga da tutto che stavo per suonare la mia prima volta in America e tutto ho invertito i cavi si è fuso tutto ieri era una settimana che aspettavo solo di suonare ero stressato perché comunque ero andato in America per suonare ancora non avevo suonato non sapevo se la show avrebbe funzionato e poi ero curioso ero arrivato in America e lì mi si fonde e in quell'inverter che si fonde si fonde tutto si fonde il mio cervello e tutta la mia tutto buio buio per un quarto d'ora buio totale e prendo tutto e da lì prendo tutto vado in un negozio lontanissimo compro un altro inverter torno nel centro di Boston attacco inizio a suonare la gente inizia a fermarsi tutto il più bello è il più brutto momento un'ultima cosa che avevo come curiosità in Italia la cultura del posto fisso è molto forte avere il posto fisso il tempo indeterminato tu non hai un posto fisso e non hai un tempo indeterminato e molti magari se facessero il tuo mestiere si cagherebbero addosso perché dicono ok ma a fine mese chi è che mi paga e se oggi nessuno mette i soldi nel cappellino che cazzo faccio come faccio a mangiare come la vivi tu questa questa situazione visto che ormai sono diversi anni la mia teoria è sempre la stessa se uno all'inizio prova a fare un certo tipo di attività e poi supera un paio d'anni no cioè anche nei momenti brutti tu dici cazzo ma sono due anni che ci sono farsa quindi probabilmente sono in grado di farcela no e se invece non riesci a superare due anni forse è difficile magari non è la vita che fa per te tu che lo fai da anni come la vivi questa situazione di costante insicurezza è che non la vivo nel senso che non è un pensiero che realmente mi sfiora io da veramente da quando ero ragazzino per me la routine anche solo di andare a scuola dovermi svegliare lo stesso giorno tutti i giorni alla stessa ora a me pesava moltissimo e dentro di me sapevo che non avrei mai voluto fare un lavoro rutinario detto questo ci sono lavori non rutinari che però ti danno comunque la pagnotta sicura alla fine del mese io penso di avere non so forse sono un po' incosciente quindi non ci penso moltissimo a questo cioè io so che per me è molto più sicuro avere la mia chitarra e la mia valigia con me e so che posso uscire e comunque guadagnarmi il pane di oggi che appunto dover timbrare il cartellino ogni giorno non sono neanche di quegli artisti di strada insomma se ne incontrano vari che invece avevano proprio il posto fisso dicono io non ce la faccio più devo andarmi devo cambiare cambio radicalmente io non venivo dal posto fisso io appunto venivo dall'acquitrinio dei 25 anni quindi sì e ti capita mai una giornata dove non incassi un piffero di niente e dici allora c'è un record che stiamo cercando con un po' di amici colleghi abbiamo che è quello di fare zero che è molto più difficile di fare x zero tu devi suonare 45 minuti un'ora e nessuno ti deve lasciare niente niente vuol dire neanche 20 centesimi ok ancora io non ce l'ho fatta ok Monti ci sono le giornate ovviamente in cui tu dici c'è la casa con 7 euro dici che cazzo ci faccio con 7 euro però da lì a pensare no non si può fare a volte lo pensi magari hai un paio di giorni che lo sciolano in grano non riesci a fermare abbastanza gente quindi per me se non riesco a fermare la gente non posso fare metà del mio spettacolo che è tutta la parte parlata perché parlare a nessuno è un po' complicato chiaro chiaro quindi magari in anelli un paio di giorni così e dici è finito lo spettacolo è finito ti avevo detto dovevi cambiare qualcosa poi il giorno dopo fai esattamente lo stesso spettacolo spacchi e ti senti irri ma quando io se facessi il tuo mestiere mi incazzerei sempre in due minuti penso che la gente la tratterei malissimo dopo un po' soprattutto quelli che arrivano lì e gli ho fatto magari un'ora di show e poi quello arriva e mi mette dieci centesimi cioè come dire metti qualcosa che sia significativo come la vivi questa parte dove magari arriva uno e ti dà la monetina un penny non so che cazzo cioè è una roba che ti tira il culo oppure dici no vabbè fa parte del gioco come varie cose all'inizio mi faceva molto arrabbiare questa non ho ancora completamente superata capito magari a volte hai gente che sta lì ti filma mezz'ora hai tutto il tuo spettacolo sul suo telefono per sempre e veramente poi ti lascia i 20 centesimi dai non ti senti molto rispettato in quello però sai che insomma non è colpa tua che tu hai fatto il meglio però c'è sempre è un lavoro che si compensa sempre capito magari invece c'è il giorno in cui quello passa neanche ti sta cagando tira fuori ti lascia 10 euro e se ne va chiaro 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 quindi si autocompensa grande senti nulla allora rispetto a Brighton quando passi da Brighton avvisa guarda io in realtà mi sa che io però porto un amico che fa la scenetta del litigio e io poi passo e metto 50 pound capito dicendo the greatest ever bam capito effetto a catena anche perché devo venire prima che entri in vigore Brexit perché poi sicuro mi fanno storia ad entrare con la chitarra sicuro ah giusto giusto non escludo che il 2020 passi per l'Inghilterra grande t'aspetto allora bocca al lupo per tutto grazie Monti grazie è stato un piacere